Però io non posso recriminare di niente perché per piangere su cose già accadute perdi solo tempo. Devi solo lavorare, continuare a lavorare. Oggi serviva la vittoria per tanti motivi. Uno perché agganciavamo l'avellino. Due, davamo entusiasmo a tutto l'ambiente. E tre, con le vittorie si può lavorare bene, si continua a lavorare. E se continuiamo a lavorare in un certo modo ci prenderemo le nostre soddisfazioni. Noi questa era la partita che dovevamo fare. Oggi non contava niente, contava solo vincere. E ho chiesto ai ragazzi di metterci qualcosina in più perché oggi è importante, come ho detto prima, per il morale, per l'entusiasmo e per tutto. I ragazzi, in primo tempo, penso che abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo giocato come dovevamo giocare. Abbiamo giocato questo sistema, l'abbiamo provato due giorni, le due e martedì. Ho chiesto un sacrificio ai ragazzi, un sacrificio a tutti quanti, di aiutarsi e di portare a casa questa vittoria. Poi dopo abbiamo preso un gol, penso che ce lo siamo fatti da solo. Poi il rigore è sbagliato e poi dopo siamo andati in paura. Poi dopo abbiamo avuto la paura di vincere perché l'importanza della vittoria era tantissimo. Poi ho diversi giocatori acciaccati proprio che stanno recuperando e ho dovuto per forza metterli in campo. Però penso che la voglia e il sacrificio è la cosa che mi fa besperare per il proseguo.